Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Costantino Vitagliano ha recentemente condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, parlando della malattia rara che gli è stata diagnosticata lo scorso inverno. In un video su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ringraziato i fan per il loro sostegno, spiegando che sta proseguendo con la terapia dopo aver trovato una cura efficace per la sua condizione. Vitagliano ha inoltre smentito le voci infondate che circolano online, alcune delle quali lo davano addirittura per morto, esprimendo frustrazione per queste false notizie. In precedenza, l'attore aveva rivelato di soffrire di una patologia autoimmune rara, che ha portato a un intervento d'urgenza per l'impianto di uno stent. Questa malattia, che colpisce il sistema immunitario, provoca infiammazione dei vasi sanguigni e richiede trattamenti specifici. Nonostante le difficoltà, Costantino ha affrontato la situazione con determinazione e ottimismo.